Ciao ragazze, allora io vi volevo ringraziare perché veramente sono contentissima, siamo lì agli accenti scritti in così poco tempo, quindi vi ringrazio di cuore, mi fa molto piacere che mi seguite, quindi grazie, grazie, grazie infinite, per me veramente arrivare a 100, siete tantissime, pensare, immaginare che 100 persone mi seguono per me veramente sono tantissime, so che per altre ragazze sono abituate a altri numeri, ma io veramente vi ringrazio di cuore, sono super contenta, vi voglio far vedere l'ultimo acquisto che ho fatto alla Gardena e sono questi smalti, che sono un po' i smalti del momento, come sapete quest'anno vanno questi smalti super brillanti, con effetto metallizzato, smalti iridescenti e io ho scelto questi tre, ho preso questi due della Pupa e uno della Debora, questi della Pupa sono della collezione Chana Doll, se non avete ancora preso questi smalti della collezione vi consiglio di prenderli, perché ragazze sono spettacolari, io sono rimasta colpita, soprattutto da questi due, ma anche gli altri due, ci sono due rossi, veramente belli 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 belli, quindi se non li avete ancora presi, prendeteli, vi faccio vedere il primo, che è questo qui, ed è un blu metallizzato, ed è il numero 732, questo è veramente bello, bello bello bello, mi piace tantissimo, vi ho fatto anche lo swatch, adesso lo faccio vedere, ed è questo qui, bello bello, poi questo verde che mi sta facendo impazzire, guardate che bello sulla mano, è veramente bello, mi piace tantissimo, ed è il 731, anche questo vi consiglio di prenderlo, ed ecco qui lo swatch, sono veramente belli, perché sono super glitterati, hanno questo effetto, brillano tutti, si vedono di brillantini, hanno questi riflessi veramente belli, mi hanno veramente colpito, poi questo qui della Deborah, ed è il numero 69, live in red, ed è veramente bello, adesso ve lo faccio vedere, ed è questo qui, niente ragazzi, questi sono i smaltini che ho scelto, e vi li consiglio tutti e tre, il mio preferito è questo qui, veramente bello, questo qui è più uno smaltino per Natale, e questo qui è uno smaltino un po' da sera, no? Questo è quello che porto in esso, ragazzi, io vi ringrazio ancora, so che anche su Facebook siete veramente in tante, quindi ringrazio anche le ragazze che mi seguono su Facebook, vi mando un bacio, ciao e continuate a seguirmi, grazie.